La procura di Caltanissetta ha chiesto la condanna di tutti e cinque gli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta antimafia Gallo d'Oro dei Carabinieri, con cui venne fatta luce sull'attività della mafia del Vallone e sui rapporti tra le cosche del nord della provincia nissena e quelle agrigentine. Al centro del processo anche alcune estorsioni a imprenditori e commercianti e gli interessi nel campo della droga. L'accusa ha chiesto al Tribunale collegiale 18 anni per Calogero Modica, 78enne di Campofranco, 12 anni e 40.000 euro di multa per Salvuccio Favata, 48 anni di Mussomeli, 7 anni, 6 mesi e 21.000 euro di multa per Giuseppe Gioacchino Di Carlo, 50 anni di Campofranco, 5 anni, 4 mesi e 20.000 euro di multa per Carmelo Conti, 50 anni di Castel Termini, 4 anni e 15.000 euro di multa per Salvatore Puma, 45 anni di agrigento. Modica risponde di associazione mafiosa ed estorsione, Favata di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e di diversi episodi di smercio di droga. Puma, Conti e Di Carlo di spaccio di cocaina. Sul capo di Di Carlo pende anche l'accusa di detenzione di una pistola Beretta calibro 9 con matricola Brasa. Si tornerà in aula a settembre per gli interventi dei difensori.